Il 2024 è confermato da guardare fino alla fine, quindi sarà da schippare dopo 5 secondi Il 2024 è anche l'anno in cui Dario Moccia si ritira, sarà un anno epico Ma è ufficiale sta cosa, da quello che ho capito, minchia secondo me tutti i suoi amici adesso vorranno succhiare il più possibile Molto interessante quello che accadrà, secondo moi Da quello che ho capito succede quando, no no no, non gli amici, i nemici, perché i nemici succhiano Gli amici annusano, fanno, eh, vero? Vuol dire? No è un meme, a me in realtà ha detto che è vero Vabbè ora, Marco gli dicono che è un meme e lui ovviamente per dare adito al meme deve dire che è vero, chiaramente Classic Marco, comunque non è vero che mi ritiro ragazzi Cioè, allora, chiariamo questa cosa definitivamente, perché mi sta sfuggendo un po', vi sta sfuggendo di mano perché io non ho mai fatto leva su questa cosa qui Io, allora, voglio prima o poi ritirarmi, ma non da Twitch, in generale voglio ritirare, allora Voglio precisare ancora meglio, ok? Magari può stimolare una riflessione questa roba qua Io mi voglio ritirare dal, come posso spiegarvelo per non risultare troppo retorico Ok, voglio spezzare Questa roba qua, cioè il fatto di Essere onnipresente Su Twitch Perché Twitch impone la onnipresenza Ora, io sono fortunato Perché questo lavoro mi diverte E mi piace da fare schifo Io non vedevo l'ora di tornare in live Però ci sono tante persone, tanti streamer, che dalla voglia di eccellere, dalla voglia di venire fuori E soprattutto consci delle dinamiche di Twitch, che se non sei presente, sei fuori, automaticamente Stanno tutti i giorni, tutto il giorno, spesso, qua in live E questa cosa, per la mente di queste persone, può essere totalmente deleteria Può essere asfissiante Può condurre verso brutte cose Ok, diciamola così Ripeto, io sono un po' dipendente dalle live Perché mi diverte fare le live Sono un po' dipendente da voi, dalle vostre cazzate Dalle vostre battute Da ridere insieme sulle stronzate Quindi, mi piace Però, non tutti sono così fortunati O comunque, non tutti sono così fortunati Da apprezzare così tanto le live per rimanerci incessantemente Ok? Buono Quindi io non è che voglio ritirarmi Totalmente Cioè, voglio Ok, ragazzi, grazie di tutto Grazie per la fantastica vita su YouTube Grazie per la fantastica vita su Twitch Adesso basta, fine No Cioè, voglio semplicemente Andarci un po' più piano E non so se sarà il 2024 La fine del 2024 Il 2025 La fine del 2025 Non lo so quando succederà Non mi sono dato una data di scadenza precisa Semplicemente ho detto Intorno, secondo me, a quegli anni Poi, prevedo di dire tutto Con quello che faccio qua su Twitch Non lo so Quando succederà Però, smettere con Twitch Non vuol dire smettere totalmente con la piattaforma Smettere magari con un programma Così Cioè, tutti i giorni A parte il sabato Contenuti sempre diversi Perché comunque, ragazzi A parte questo Cioè, trovare un ospite Io Cioè, ho trovato un ospite Per ogni martedì Nell'ultimo anno e mezzo Quattro ospiti al mese Quest'ultimo 2024 Più di 50 ospiti Solo delle interviste esclusive Poi c'erano anche quelle nel Cultura Dove ho invitato le ragazze Che hanno lavorato al Cuphead Show Dove ho invitato Williams Dove ho invitato Casa Rosa E lì saranno 60 interviste In un anno In un anno solo Nel 2023 e basta Ho fatto il conto Perché ho fatto quelle storie su Instagram Quindi non è facile Sempre trovare Degli ospiti da intervistare Che si rendano disponibili Per fare queste robe qua Idem per la nel Cultura Ogni settimana A parte le pause, eccetera Sempre un nuovo fumetto Una nuova serie O comunque un vecchio fumetto Una nuova serie di cui non ho mai parlato Mi devo documentare Mi devo preparare Insomma non è facile Quindi Va benissimo Però Non ho voglia di fare così tutti i giorni Per i prossimi 5-6 mila anni Perché devi essere sempre qua Poi non si sa cosa succederà Nelle prossime Nei prossimi anni Con la piattaforma Con noi Con i miei amici Questo non si sa Però mi sono Bene o male Detto Secondo me fra 2-3 anni Posso anche un pochino rallentare Quindi fare Magari non 6 giorni di live a settimana Ma 2-3 Divertirmi O fare delle live così Dove mi diverto E non essere così presente Ma c'è ancora un po' di roba Che devo dire E che mi sento di dire Ora ho fatto un ordine su Amazon Di più di 10.000 euro Guarda Oggi mi hanno passato la roba da comprare Per il nuovo studio E l'ho comprata Quindi Sto investendo Non ho intenzione di buttare via Questo investimento Per un solo anno di stream Non ho Non ho voglia Sto investendo ancora tanto Su Twitch Sia mentalmente Che fisicamente Quindi No non è un nuovo studio È un nuovo angolo di studio Che userò soprattutto Per la maratona E per Dei formatini Che verranno post maratona Quindi Tranquilli Ecco Voglio chiarire definitivamente Questa roba Poi se vi fa ridere il meme 2024 Andate pure avanti Però Vi volevo Solamente dire Qual era la verità Basta Non c'è altro in realtà Ok Non ci sono altre Storie O Dietrologie Questa è la mia idea Sulla cosa Voglio divertirmi Voglio dare il massimo Finché mi diverto E finché ho voglia Ma sono convinto Che fra due Tre anni Non so quanto Poi tutto può Può succedere nella vita Ragazzi Eh Tutto può presentarsi Qualcuno Con un contratto Multimilionario Di mio Ragazzi O Dario Stiamo reinvestendo Perché stanno morendo I social La gente sta tornando In tv A caso Vieni Fai un programma Di fumetto Per i prossimi Cinque anni Tipo Fai per un pugno Di libri Tre ore al giorno In questa tv Qua Capite bene Che la sensazione Roteleggiadre Ha donato Cento pittori Non si sa Gente che esce La facciamo diventare Quello che vogliamo Mangiamo Beviamo Di giorno Di notte Ci ubriachiamo Spacchiamo tutto La radiamo al suolo Questa merda di casa Oppure non lo so Ti fanno fare un programma Di viaggi Cioè raga Che cazzo ne so Cioè tutto può accadere Le aziende ragionano Per vie imprevedibili Quindi vediamo Vediamo Non lo so Ragazzi vedremo Intanto concentriamoci Sul presente Sì si è una citazione Aldo Giovanni Giacomo Concentriamoci Su quello che verrà Nei prossimi anni Qua su Twitch Perché io ora Sono concentrato Su questo Quello che succederà dopo Vedremo Quello che vi posso promettere È che Tutti gli abbonamenti Tutto il vostro sostegno Mentale Fisico Anche non abbonati Eccetera Chiunque mi sosterrà Saprà che sfrutterò Ogni abbonato Ogni Ogni numero Per fare cose fighe Su Twitch Fino all'ultimo giorno Di questo potete star certi Quindi andiamo avanti E basta Cos'è sta roba Tra l'altro Si va a letto Ma va Fanculo Veramente Ti stavo anche a ascoltà Grazie Shada Cartoon Dog Light of Sun Termo Scarabella Lestofanti E Potenusa Che cazzate Veramente Ma poi come vi vengono Capito